cavaliere della strada buongiorno oggi vi volevo parlare nuovamente delle sospensioni ad aria perché le voglio montare anche in questa questione qua perché voglio parlare di nuovo delle sospensioni ad aria perché quando pubblicato il video nei vari gruppi di facebook c'è stato un po di ferio ognuno diceva la sua però la matematica non è un'opinione innanzitutto innanzitutto vediamo un po vediamo un po quanto riusciamo a alzare questo culone basso le balestre lì sono scoppiate sono dritte vediamo un po quanto riusciamo a alzare misuriamo quant'è vediamo un po qua siamo a 37 37 centimetri adesso vi faccio vedere l'opinione può essere sulla scelta delle delle sospensioni ad aria ma non non se sulle balestre devono essere devono sane o oppure no se le balestre sono sane le sospensioni non lavorano non lavorano perché se sono sane e questo culone era alto perché erano le balestre appena rifatte noi ci mettiamo le sospensioni ad aria in mezzo e stanno lì non le gonfiamo diventa tutto troppo rigido non servono a un tubo o a poco io posso darvi la mia opinione su 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 scegliere le sospensioni alco oppure aftermarket come ho comprato qua che alla fine ho pagato uguale però c'è una bella differenza perché perché innanzitutto le dimensioni le dimensioni contano le alcol sono tre volte più piccole tre volte più piccole queste sono delle bestie belli grossi proprio sono molto ma molto più piccole poi che cosa hanno di differenza le alcol hanno hanno una camera unica unica cioè o dio meglio che non averle senza ombra di dubbio ma qua abbiamo una doppia camera è molto più stabile se noi guardiamo fino a qualche anno fa ho lavorato come magazziniere ci sono parecchi parecchi camion nuovi e montavano tutti sospensioni come queste no molto più grosse tre volte più grandi forse anche quattro però questa è la tecnologia no quelle dell'alco secondo me sono rimasti indietro nel tempo agli anni 90 no quando c'erano le prime sospensioni a sospensioni ad aria andiamo giù a montarle adesso scusate ragazzi ma se non cambio occhiare e metto quelli da vicino ho sbagliato lì non è a 37 ma 57 andiamo avanti adesso vi faccio vedere prima di andare sotto vi faccio vedere vi faccio vedere una cosa ecco qua ho fatto il disegnino no come come i bambini così si si riesce a capire bene ecco questo è l'asse e l'asse che sono attaccate le ruote una e due l'asse la balestra le balestre sono appoggiate sull'asse qua in questo punto questo punto e questo punto e questo punto sono appoggiate e tengono lo chassis uno e due sono tipo due binari che sostengono tutto tutto il camper o il furgone o il camion lo chassis eccolo qua uno e due e sono attaccato ed è attaccato qua e qua qua e qua praticamente loro a mano che si stancano le balestre si schiacciano si schiacciano questo su balestre in forma ecco se io su delle balestre in forma gli metto facciamo finta che un pallone il la sospensione ad aria se io gli metto il pallone qua ecco fatto ecco lo posso gonfiare ma diventa duro come una pietra per per lavorare perché troppo se invece la balestra è stanca e stanca vuol dire che si è abbassata no io questo pallone per metterlo lo devo addirittura schiacciare no e allora sì che aprendosi e chiudendosi io posso alzare abbassare il culo posso decidere la resistenza che deve avere la sospensione ad aria se io le sospensioni se io le balestre sane belle alte dure solide le sospensioni non servono a nulla andiamo sotto prima di tutto prima di tutto dobbiamo rimuovere i tamponi di fine corsa quelli vanno praticamente ad appoggiare a fermare la corsa no e vanno eliminati un cacciavite e li facciamo saltare ecco qua si è fatto buio ma la luce non manca i soldi mancano ma la luce la luce la luce c'è ecco qua montate qui agganciate sia sopra che sotto di qua c'è l'altra giriamo la luce dice l'altra questo kit questo kit ha un solo manometro praticamente ha un t laggiù legato tutto con le fascette ha un t che collega uno all'altro e che cosa fa va al manometro no al manometro dove si gonfia dove si sgonfia e c'è pro e contro pro e contro quindi come in tutte le cose c'è pro e contro diciamo nell'avere due manometro si può mettere un altro manometro però io lo lascio così perché già nell'altro camper mi ero trovato non bene benissimo diciamo alla scomodità che se il camper qui squilibrato che ha il peso da una parte oppure dall'altra no che da basso da una parte bo alto dall'altra viceversa ecco con due manopoli da una parte confidi più dall'altra confidi meno però che cosa succede succede che quando prendi una buca quando prendi una buca quella si schiaccia una compressione impressione la pressione va alle stelle e poi diventa molto rigido prendi la boca boom senti una botta e invece così scarica il peso all'altro soffione scarica la pressione all'altro soffione c'è pro e contro in tutte le cose io mi trovo molto ma molto bene così l'unica cosa che devi caricare il modo proporzionato a destra e a sinistra adesso mandiamo tutto su mandiamo tutto su e vediamo che succede siamo siamo arrivati alla bellezza quasi 63 centimetri quindi abbiamo guadagnato un bel po di un bel po non è più non è più sotterrato questo questo è un rapido è ribassato da casa madre anche nel 92 e questo è stato già ribassato ribassato proprio tutto infatti se guardate non c'è neanche gli scalini è proprio ribassato di suo la rapido allora era una delle market top infatti se vedete no non trovate non è che si trovano tanto facilmente cerchi da 16 a libretto vetri elettrici è tutto di serie andiamo vi faccio vedere il manometro per adesso per adesso per adesso ho caricato a due 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 bar non mi piace se girare posso andare bene oltre però io piano piano mi piace fare le cose e se lo faccio a sestare un pochino poi lo tiriamo su ragazzi una bomba una bomba davvero sembra di galleggiare su dei cuscini d'aria si viaggia ti porta a camper un camper vecchio di 30 anni te lo modifica te lo fa te lo fa andare come un camper di quelli nuovi l'ultima generazione i viaggi li senti di meno non si balla più non si dondola più ma soprattutto in curva una tenuta di strada mostruosa mostruosa poi anche quando sei dentro quando sei dentro non c'è più bisogno di stabilizzatori è già bello fermo così com'è montate le sospensione natale ascoltate a me è sempre a cannone